Ciao ragazze, allora nuovo video, oggi location diversa, però ho pensato come ogni venerdì di farvi vedere tutte le novità della settimana Lidl le vediamo sul nuovo volantino, che però purtroppo ragazze non sono riuscita ad avere fisicamente perché oggi è stata una giornata un po' pesante e non sono potuta appunto andare da Lidl però ce lo vediamo tranquillamente qui dall'app naturalmente sarà il volantino in vigore dal 7 di maggio fino al 13 di maggio quindi come potete immaginare riguarderà la festa della mamma in primis abbiamo tantissimi prodotti di marca sotto prezzi da noi i prezzi sono sempre più bassi come ad esempio frutta, verdura ma anche prodotti di marca carne come ad esempio pandistelle eccetera appunto dal lunedì 7 maggio dedicato a tutte le mamme abbiamo dei nuovi prodotti che in realtà tornano da San Valentino sicuramente se seguite il canale avrete già visto tutte queste cose che vi sto per dire in quanto abbiamo scartato io e il patatone con voi un mega pacco Lidl con alcuni di questi prodotti infatti abbiamo la sezione for you dedicato a tutte le mamme con formaggio fresco, cuoricini di patate, cuori ripieni, pizza a forma di cuore e vi segnalo anche la promozione riguardante Lidl Photo visto che comunque con il servizio appunto Lidl Photo mi sono trovata molto bene ve lo consiglio assolutamente e con il codice mamma mia 20 c'è il 20% di sconto su tutto sul sito ufficiale Lidl poi magari vi linko giù nell'info box direttamente il sito così se volete andare a spulciare anche solo a dare un'occhiata potete andare a vedere lì ma la cosa che non vedevo l'ora di segnalarvi e per la quale siete già impazzite tutte su Instagram è la parte del volantino che si chiama dedicato a tutte le mamme con tantissime proposte beauty anche nuove allora in questo video andrò un pochettino più veloce ma appena terminato questo girerò un altro video appunto solo su questa sezione perché comunque abbiamo in primis alcuni nuovi prodotti della Tropical Summer come gli autoabbronzanti, le salviette struccanti, il burro cacao, le maschere viso e sempre della Tropical Summer alcuni prodotti che sono tornati come ad esempio alcuni smalti, il leva smalto a immersione nella seconda parte dedicato a tutte le mamme troviamo poi i famosissimi smalti curativi che sono lo sbiancante, il rinforzante, l'olio per le buticole ma anche la penna con reggi smalto insomma tantissimi prodotti per le unghie che so che tantissime di voi utilizzano e con cui già vi anticipo che anche io mi trovo molto bene tre promozioni importanti primis lo shampoo o balsamo della Sien Professional al 25% di sconto ma purtroppo ragazzi nessuno dei due ha un buon inci secondo prodotto l'Eau de Parfum Madame Glamour in promozione a 3,79€ di cui poi qui sopra trovate il video con tutti i due ed infine la cosa che mi faceva piacere segnalarvi è l'olio anticellulite alla betulla della Sien Nature anziché 3,99€ con 1€ di sconto 2,99€ e anche questo sapete che è un prodotto che adoro altri tre cofanetti che vi segnalo il primo è quello DAV 4,99€ ma i prodotti non hanno assolutamente un buon inci mentre abbiamo anche due cofanetti non so se ve li ricordate del marchio Vivo di Natura so che tantissime di voi hanno acquistato questi prodotti si sono trovate anche molto bene il primo è quello con i packaging gialli a 9,99€ il secondo è quello che si chiama Vivace Armonie a 5,99€ riguardo i prodotti alimentari abbiamo poi la settimana asiatica nel cuore della cucina tradizionale asiatica con tantissimi prodotti, salsa asiatica, mix di verdure poi vi segnalo intimo per lui e per lei allora per l'uomo abbiamo canottiere, boxer per l'uomo invece noi donne abbiamo ancora canottiere reggiseni slip, ancora altre canottiere e tanti tantissimi calzini e sempre da lunedì continuiamo con sogni d'oro con Lidl ragazze lunedì andate assolutamente da Lidl perché troverete tantissimi prodotti interessanti e ancora utili in casa con stile e troviamo la scopa batteria ricaricabile ferro da stiro anche in promozione di 9€ quindi 17,99€ anziché 26,99€ la macchina della Singer per cuscire e anche prodotti per l'arredamento della casa che sono praticamente gli stessi usciti a San Valentino quindi le cornici sempre per la festa della mamma troviamo poi alcune idee regalo come gli orologi il set per manicure infine anche stavolta tantissime composizioni floreali di tutti i tipi e tutti i generi tornano ancora da giovedì 10 maggio i prodotti Parkside i prodotti molto interessanti da giovedì sono l'abbigliamento Esmara troviamo vestiti da donna t-shirt, short, canottiere ancora lingerie quindi reggiseni, slip, canottiere ragazze questa settimana c'è veramente di tutto e soprattutto mi piace il fatto che ci siano tantissime idee anche appunto per i regali per la festa della mamma comunque ragazze con questo è tutto mi raccomando se vi piacciono i video riguardanti le novità Lidl lasciatemi un bel pollice in su ricordatevi sempre di iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video un bacione ciao ciao